bentornati da vissi grandissime novità e i nuovi arrivi arrivati questi due grandissimi pacchi di materiale vi aspettiamo per l'unboxing a tra poco ecco cosa c'era in quei due scatoloni nuova semistagna tecnodiver in 7 mm rinforzi sulle ginocchia rinforzi sulle spalle collo da 3 mm che si rigira con doppia sistema con doppia sistema di tenuta per poi incastrare il cappuccio avere una tenuta totale all'acqua montano le cerniere t-zip le master seal quindi cerniera in plastica con dentoni grandi molto morbida elastica e ha tenuta completamente stagna così da qui non non entrerà nessuna goccia l'acqua sono il vengono già fornite con cappuccio separato con il cappuccio è già preforato con sistema a labirinto quindi ci agevolerà l'uscita dell'aria ma impedirà l'ingresso dell'acqua su polsi e caviglie hanno un nuovo sistema di tenuta con guarnizione interna da un millimetro questo sistema agevola l'inserimento della muta quindi non avrò più l'acqua stop che mi dà fastidio quando la inserisco ma nello stesso tempo mi dà un'ottima tenuta all'acqua tutte le mute vengono poi fornite con una tasca montata sulla gamba destra tasca con doppio cursore quindi potete aprirla e chiuderla con un modo molto semplice tasca di grande volume dove è possibile mettere una maschera di scorta o un reel o un cazzillo o uno spool all'interno della tasca è già dotata di un anello a d dove io posso clippare quello che voglio mettere nella tasca per evitare di perderlo ci sono tutte le taglie possibilità anche di taglie drop quindi di taglie di mezze taglie m corte m lunghe l corte l lunga venite a vederle a provarle qui da noi da visi vi aspettiamo l'acqua